Questa legge sull'agricoltura del governo Renzi che cosa prevede? Praticamente nulla, soprattutto prevede cose già superate dal tempo. È stata presentata in Parlamento nel febbraio 2014, oggi siamo oltre un anno e tre mesi dopo. Chiaramente ci si può capire benissimo che è un provvedimento che arriva in maniera tardiva e non affronta i veri nodi sull'agricoltura, come l'Imo agricola. Questa è un'opportunità che il governo aveva per poter andare a rivedere la tassazione sui terreni agricoli e invece non l'ha fatto, quindi conferma ancora una volta la scelta di utilizzare l'agricoltura non come fonte di reddito per il Paese ma come fonte da cui andare a prendere proventi per la tassazione. Altri settori tocca questa legge? Soprattutto non dà risposte, non dà risposte ad esempio come lo avevamo richiesto sulla tutela dei nostri marchi, sulla tutela della produzione, sul Made in Italy. Anzi, nel frattempo ormai sappiamo che dal primo di aprile di quest'anno sono stati depenalizzati alcuni reati tra i quali anche la contraffazione e la genuità dei prodotti. Oggi contraffare i marchi DOP o IGP non è più un reato penale. Questa legge non tratta in questo modo, in maniera corretta e seria, i nostri prodotti. Non risolve questo problema e addirittura lascia la situazione ancora più aggravata. Una doppia beffa, aspettare un anno e mezzo per non avere una legge che dia veramente uno sbocco e una ripartenza della nostra agricoltura, proprio nel momento in cui invece c'è Expo e tutti si lavano la bocca con l'importanza dell'agricoltura italiana.